Con l'apertura del Presidente Fabrizia Franca Badnera è stato inaugurato l'anno giudiziario 2020 della Corte d'Appello dell'Aquila. La Presidente ha sottolineato come nonostante la cronica carenza di personale e un sistema che poco agevola la definizione degli iscrizioni delle cause, in realtà l'Abruzzo sembrerebbe in controtendenza. Attualmente sono in servizio in Abruzzo 190 magistrati professionali, di cui 92 donne e 98 uomini. La percentuale delle donne è poco inferiore alla metà, mentre a livello dirigenziale si contano 3 donne, Presidenti di Tribunali su 10, un solo Procuratore della Repubblica su 9, oltre al Presidente della Corte, lievemente al di sotto del dato nazionale che vede una percentuale di poco superiore al 50%. Nel settore civile sono stati registrati negli otto tribunali del distretto ben 36.921 nuovi procedimenti, di cui 12.900 di affari civili e contenziosi, 7.660 giudizi in materia di lavoro e previdenza, 9.500 procedimenti sommari. Sono 6.800 invece i procedimenti di volontaria giurisdizione. Negli uffici del Giudice di Pace sono stati iscritti 16.066 nuovi procedimenti civili, ne sono stati definiti 6.200 e ne restano pendenti 5.753. In Corte d'Appello, a fronte dei 2.713 nuovi procedimenti, ne sono stati definiti 3.820. Nel settore penale i tribunali hanno registrato 10.831 nuovi procedimenti. La definizione è stata portata per 11.399. L'idea di fondo che ci guida, ha detto il Presidente, è che la giustizia non sia questione di una parte ristretta di tecnici, ma è un servizio nel senso più alto del termine, un servizio ai cittadini, al territorio e alle istituzioni.